La maledizione di Mitra In loro aiuto accorre anche la madre della vittima, Veronica, di professione avvocato. A coordinare le indagini è il vicequestore Angelo Sarto, anche lui vuole assicurare alla giustizia il colpevole. Ma le prime informazioni che arrivano su Enrico lasciano tutti senza parole. Scavando nel passato si scopre che il poliziotto aveva una seconda vita. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi. Se non volete perdere nemmeno un video ricordatevi di attivare le notifiche tramite l'apposita campanella.